ciao raga allora oggi sfrutto sto momento perché devo parlarvi di un gruppo molto gandor si chiama the gamers group principalmente cosa siamo siamo una community io praticamente ci sono dentro da da quest'estate se mi ricordo e perché world of warcraft perché questo principalmente non serve privato io non ho un gioco di solito questo gioco o ai giochi tipo questi a pagamento no io gioco gratis allora c'è oggi sfrutto questa occasione che perché ho la giornata libera per parlarvi di questo gruppo come ho detto siamo una community siamo simpatici tutto quello che volete parliamo principalmente di qualsiasi tipo di gioco dai gdr ai ai fps per parlare tipo ad esempio gli admin giocano agli fps horror roba così sono parecchi molti hanno xbox molti hanno la ps3 molti giocano e praticamente è una community molto affiatata e potete parteciparne anche voi non è come gli altri che sono private a uso privato principalmente basta che pubblichiate un video e lo indirizziate a la loro pagina e loro ve lo metteranno dentro il loro network il loro canale cioè non siamo bastardi come gli altri se allora come vedete oggi sto giocando a cosa qua a world of warcraft non so perché ma mi è venuto di giocare a questo spero al maggior parte di voi piaccia e se no non so che fare a me non dispiace sto gioco però c'è alla lunga annoia come tutti i giochi di ruolo più o meno beh non per tutti a me a me annoia perché non fa per me raga e allora praticamente cioè non vi accanite perché allora vi spiego tutto a capo allora il video da mettere devono avere come minimo 720p di grafica non 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 full hd non 3d che esce fuori dallo schermo bastano 720p così li facilita a ridirizzarli dopo e partecipate in molti ci fareste molto comodo poi una mano una mano aiuta l'altra non intendiate male non so che altro dirvi adesso giochiamo mi sono creato questo toro qua perché sembrava più simpatico degli altri come vedete è un server privato ci basta poco a salire e basta così è proprio oggi faccio questi video principalmente perché non ho un cazzo da fare i giorni in cui non ho allenamento non ho pomeriggio occupato dai è simpatico sto gioco si si principalmente ci giocano in nerd ma io non mi considero nerd i gangster non sono nerd spero vi piazza come vedete sto zappando queste sottospecie di struzzi ecco oggi sono serio perché sto parlando di della mia community che è una community seria scherzosa ma ma non prendiamo tutto per scherzo c'è un conto è scherzare un conto è impegnarsi noi tendiamo più a impegnarsi cioè le equilibri le equilibriamo le due cose e poi se volete partecipare basta che mi scriviate qualcosa cazzate tipo bla da da noi vogliamo non vogliamo allora avviserò gli admin di mettere il vostro video basta che non mi mettiate un porno che quelli non posso metterli bene a zappare mi sono rotto il cazzo passiamo un altro gioco si rieccoci qua ho scelto san andreas perché è un gioco che mi rappresenta praticamente parla dei west coast la costa ovest mica scherzi raga è un è molto credo che sia il gioco più bello a cui abbia giocato io si può fare qualsiasi tipo di stronzata mettere codici tipo aspetta per esempio ho messo codici armi cazzate varie questa mazza che strage eh si qua potete fare delle enormi strage proprio come succedeva ma questi qua proprio non si incazzano mai cioè li prendi a pugni e loro niente porca puttana non si incazzano mai cioè guarda ti tiro pugni e scappa gli sparano ecco con la pistola adesso col coltello cioè vieni qua di becco puttana allora gamers group perché dovrei invogliarvi ad iscrivervi e non vi ho parlato solo del canale fino adesso beh allora principalmente siamo una pagina facebook una pagina chat di quelle che puoi chattare con le varie persone che ci sono dentro bene tra una strage e l'altra vorrei parlarvi di questo allora come vi ho detto ci sono già dentro da quest'estate già dal primo momento li ho trovati simpatici si è gente che non è nerd fissa è che a cui piace giocare ai videogiochi e certi sono pro altri ci giocano per cazzesco molto molto simpatici come vi ho detto trovate la pagina facebook e poi hanno anche un forum tutto loro e anche quello si chiama the gamers group eeeee aspetta che becco sta puttana ah non ti becco eh adesso ti becco adesso Vedete che ti beccano, vedete Oh, volevi scapparmi eh? Ecco, eh... C'è un forum, potete registrarvi lì Se non vedete Facebook Se no, vi registrate lì E te che cazzo vuoi eh? Sì, sì, spara alla polizia Spara in più eh Sì, eh... Poi vi ho dentro il forum E... Cosa che ci partecipate? È troppo bella come finisce Cosa perché... Cazzate vai Non so... Del genere Allora... Con questo è tutto, fatemi sapere E... Vi chiedo di registrarvi E... E... Con questo concludo Vi auguro... Una buona giornata Ciao raga!